Weekend in chiaroscuro per la palla Spicchi Ponentina, con un bilancio per quanto riguarda le prime squadre di una sola vittoria di due sconfitte. In Serie B femminile, passo falso del Basket Club Ospedaletti a Tortona contro la Nadirex International. Il 69-44 finale prende forma nel secondo quarto, quando il capitano piemontese Gabba opera il break, trovando una serie impressionante di triple. Le ragazze di Carbonetto soffrono una difesa molto fisica, che tarpa il gioco delle piccole, permettendo solo alle lunghe di andare a canestro con regolarità. Non a caso la top scorer Ponentina e Roberta Sarti con 17 punti. La classifica resta comunque positiva, con un secondo posto in coabitazione e uno spareggio contro il Torino sabato sera nella palestra di casa di Via Isnard. Le nostre telecamere però erano puntate sul quinto turno del campionato di Serie D maschile, dove invece l'Ospedaletti si è sbarazzato del Luisp Rivarolo per 67-48. I ragazzi guidati da Coach Lupi e da un Super Baggioli, 20 punti a referto, non hanno brillato per precisione in attacco, ma hanno saputo erigere una difesa monumentale che ha fruttato il più 19 finale. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per gli Orange, che con un match disputato in meno si trovano al secondo posto dietro la corazzata Sarzana. Domenica prossima trasferta Varazze contro Juvenilia per proseguire la marcia verso la vetta. Per il secondo turno del campionato di promozione, infine, il BVC Sanremo ha ceduto, non senza polemiche, al cospetto del finale. A sette minuti dalla fine, infatti, quando i matuziani erano avanti di tre lunghezze, si sono visti annullare un canestro in contropiede di Reggio per sfondamento, quinto fallo per lui, e assegnare un tecnico a Gianforte per proteste. Con tanti lunghi in panchina, piedati per i falli, il BVC ha smesso di difendere, concedendosi al break decisivo Savonese. Coach Amato ha elogiato comunque la prova dei suoi giovanissimi, attesi sabato prossimo dal derby contro il basket Imperia Rivera dei Fiori alla palestra Maggi.